Guarda che ora ammazzi proprio, guarda, troppo forte, c'è capitato in comitiva, siamo andati in gruppo a mangiare al cinese, no? E invece che le porchette ci hanno portato solo le bacchette, quindi mangiavamo con le bacchette, però ci cadeva tutto. Capito? Cioè ci cadeva tutto. Cioè, vabbè, la cosa proprio comica, preparate che ora ammazzi proprio, perché sono andato in cucina a chiedere le porchette e che ho trovato i cinesini che mangiavano la carbonara, capito? Capito? La carbonara mangiavano. Cioè, noi con tonal di frite loro la carbonara, per cazzo che mangiano cinesi. Ho detto cazzo e il riso, umorismo peporiccio, ora è il fiorismo. Sti stronzi, cazzo, segna, buro. Fa ridere? Eh? Che lo dico, fa ridere? Ah no, scusa, mi è venuta in mente una berzelletta sui pittori espressionisti che mi ha raccontato un mio amico paleontologo. Diversitissimo, vuoi che te la racconto? Aspettaci, dopo che passi al tifone. Era tutto tu?